Giornata decisiva domani pomeriggio per il Real Menfi che al comunale ospita il Belmonte Mezzagno nei play-out per stabilire chi resta in prima categoria e chi retrocede. Partita secca, spareggio quindi senza altri appelli. La squadra di Mister Vitualesi, dopo una stagione complicata e ricca di alti e bassi, ha l'occasione di riscattarsi e conquistare una sofferta salvezza. Durante la stagione regolare i due sodalizi hanno chiuso rispettivamente al terzultimo e penultimo posto. Il Real Menfi ha terminato con 24 punti, mentre i palermitani con 19. Nel corso del campionato il bilancio è perfettamente in parità, una vittoria a testa. Nel girone di andata avevano vinto i Belicini per 4-0, mentre nel girone di ritorno la vittoria era andata ai palermitani per 2-1. I menfitani avranno dalla loro parte il fattore campo in virtù del miglior piazzamento ottenuto in classifica durante il torneo. Mister Vitualesi si affiderà ai giocatori con più esperienza, primi tra tutti Rizzuto e Zinna, e alla rivelazione Fofanà. Il calcio d'inizio è previsto domani alle ore 16.30. L'auspicio della società di casa è che, tifosi ed appassionati, possano stringersi attorno alla squadra e condurla alla salvezza. Domenica invece alvia anche play-off. Per le semifinali in campo San Vitolo Capo contro Resuttana San Lorenzo e Fulgatore contro Palermo Calcio Popolare. Chi vince avrà accesso alla finale play-off. In promozione c'è già l'Unitas Sciacca, al lavoro per la prossima stagione.